Io sono Marcello Caltabiano, sono nato il 10 giugno 1936, qualche mese fa, insomma, non molto cosa. Ora dovrei iniziare dicendo io nacqui, ma nacqui non mi piace, è come un pugno nello stomaco, però è italiano, il verbo nascere è irregolare. Avrei preferito io nascei o io nascetti, ma sono nato in provincia di Cuneo, nella ridente cittadina di Fossano, perché tutte le cittadine sono ridenti, se vogliamo, da padre siciliano e da madre di Venezia. Quindi quando qualcuno mi chiede, sono nato per sbaglio, non è colpa mia a Fossano, era mio padre che era ufficiale di artiglieria, purtroppo era a Fossano, sarebbe stato più bello dire qualche altra città più gloriosa. E ci stetti a Fossano un anno e mezzo, per poi essere trasferito a Treviso e a quattro anni calcai il suolo di Udine, Udine dove sono rimasto per 11 anni. Naturalmente eravamo in periodo di guerra e la cosa che ancora ho davanti agli occhi di Udine è l'abbattimento di una fortezza volante. Perché stavo correndo verso il rifugio e a un certo punto sento non il rumore delle fortezze volanti che si ruola, ma è un rumore sgraziato di un motore che imballa. E guardo per aria e vedo questa fortezza volante che ha fuoco sull'ala destra e da questa fortezza si vedono otto paracadute. Dopodiché la fortezza volante perde l'ala e io ero rimasto lì ipnotizzato a guardarla fin tanto che non interviene mia madre, mi prende per un orecchio che mi porta dentro al rifugio. Quindi io non ho visto gli ultimi istanti di questa povera fortezza volante, ma è caduta in linea d'aria, sarà stato 300-400 metri, ma sembrava che cadesse sempre sulla testa. Questo è il ricordo più vivo che ho di Udine dove sono arrivato a fare fino alla prima scientifico. E poi avendo perso il padre in guerra sono andato alla Nuziatella a Napoli nel 1951. E devo dire una cosa che la disciplina militare che ho trovato alla Nuziatella era molto più lasca di quanto non fosse la disciplina militare di mia madre, perché sembrava che fosse d'accordo con le SS. E comunque alla Nuziatella mi sono trovato molto bene. A Napoli poi nel 1951 ci si trovava veramente bene. Che ricordi posso avere della Nuziatella? Beh, ricordi bellissimi perché devo anche dare atto agli ufficiali di non aver mai e poi mai fatto un'azione di convincimento per noi allievi di andare nelle accademie. E questo è un grande merito che io devo agli ufficiali di inquadramento. Se non che, facendolo scientifico, dovevo stare quattro anni mentre quelli del classico ci stavano tre anni. E allora ho tentato il salto. Ho tentato il salto e mi hanno rimandato a ottobre, per la maturità eh, e mi hanno rimandato a ottobre in latino e filosofia. Ora per uno che fa lo scientifico essere rimandato a ottobre in latino e filosofia, non dico che non ho studiato durante l'estate, per l'amore del cielo, però sembrava quasi fatto. Se non che mi bocciano. Mi bocciano e io devo fare la quarta scientifica, no, la quinta scientifica, cioè il quarto anno di Nunziatella. E questa è stata la fortuna perché in previsione del salto, io avevo fatto il concorso in aeronautica, ma ero stato scartato. Perché? Perché dicevano che avevo avuto delle febbre da piccolo. E chi non le ha avute? Però mia madre appena, appena gliel'ho detto, mi ha portato dal miglior radiologo di Udine e l'anno dopo, io sono stato promosso a giugno alla maturità, ho rifatto il concorso per l'Accademia Aeronautica e l'ho passato. Se fossi stato promosso con il salto alla maturità, molto probabilmente non avrei potuto entrare in l'Accademia Aeronautica. Dio solo sa che cosa avrei fatto o avrei potuto fare. Bene, comunque, Accademia Aeronautica, corso Pegaso, secondo. Siamo usciti, siamo entrati in 81, siamo usciti in 51 sottotenenti, e purtroppo in quei tempi gli incidenti di volo erano piuttosto frequenti, ne abbiamo persi 10, il che significa un 20% del corso che se n'è andato per incidenti di volo. e questo è molto triste, molto triste perché, tra l'altro, il primo, addirittura, mentre eravamo in Accademia, ad andarsene è stato Dario Deiudicibus, che era quasi mio compagno di banco alla Nunziatella. Comunque, abbiamo tirato stretto i denti e abbiamo tirato avanti. Macchino 416, T6, a Pomigliano d'Arco, e ancora io mi chiedo come sono riuscito a far volare il T6, perché era una macchina in cui il muso precludeva qualsiasi vista davanti, era pesante, era un velivolo a elica, naturalmente, e ci abbiamo fatto tutto. Chiedendomelo, e me lo chiedo ancora adesso, con quelle poche ore di volo che avevamo sul groppone, fare le viti col T6, insomma, non era una impresa facile. Naturalmente era un'impresa formativa al massimo, però quando una volta al ventesimo gruppo mi incaricarano di andare a Guidoni a ritirare un T6, perché allora lo usavamo per i collegamenti, anzi lo usava più che altro Gianni Elia per i collegamenti. Decollare da Guidoni è stato facile, ma per tutto il volo mi chiedevo come avrei fatto per atterrare, portarlo a terra, insomma, non è che abbia pregato in volo, ma insomma, con buona fortuna sono riuscito ad atterrare senza imbardare, senza fare delle porcherie. Dopo questo naturalmente c'è Lecce, e a Lecce ho fatto uno strumentale con il comandante di gruppo che era Delfino Fratini, un maggiore, mai contento, proprio quando andava bene, prendeva il cuscino e te lo batteva in testa, però poi ti diceva anche in che cosa avevi sbagliato. Poi T33 ad Amendola, e T33 ad Amendola con Nino Stura, istruttore, buonanima Nino Stura, ma era esigentissimo, devi essere svelto più di un gatto, io in certe circostanze pretendeva per esempio che l'acrobazia venisse fatta di di getto collegata, insomma, e tant'è che a un certo momento pensavo proprio che non ce l'avrei fatta, però poi alla fine ce l'ho fatta e mi hanno mandato alla quinta aerobrigata. Questo avveniva nel mese di luglio e l'ufficio amministrativo di Lecce ci aveva pagato anticipando anche agosto, per cui noi ci siamo trovati, ed eravamo in otto del mio corso a Rimini in piena stagione balneare con lo stipendio che c'era e alla fine verso metà agosto, forse anche il 10 agosto, abbiamo messo a fattor comune tutto quello che avevamo nel portafoglio, avevamo 10 mila lire in otto. Un particolare di Rimini è la presentazione al comandante dell'aerobrigata, che allora era il colonnello Tondi. Allora c'erano ancora le divise bianche e tutti quanti noi, Sharpe, Shabola, divisa bianca, Bellini, tutti e otto, ci presentiamo al comandante di Stormo, il quale ci guarda e dice facciano tre passi indietro e facciamo tre passi indietro, dice ecco quella è la distanza dalla quale dovete tenere voi da me, cosa che oggi come oggi è inconcepibile se vogliamo, però è stata una bella lezione, lui era il comandante di un'aerobrigata, noi eravamo dei sottotenenti di primo pelo. Rimini, Rimini, l'F84 era un velivolo bellissimo, però con un motore poveraccio da 8200 libri di spinta e quindi non era che potesse fare cose eccezionali. Comunque siamo riusciti ad agganciare un 18 che portava il Papa Paolo VI per la prima volta fuori d'Italia in volo per Gerusalemme, in volo per Israele e poi addirittura ci hanno dato una commenda del Vaticano a tutti noi, quattro piloti che eravamo di scorta. L'abbiamo scortato fino alle acque territoriali fino al sud, dopodiché l'abbiamo lasciato, ma penso che l'abbiamo lasciato agli israeliani. Rimini, devo ricordare una cosa, devo ricordare gli allarmi di Rimini. Gli allarmi di Rimini erano diabolici perché il primo allarme, siccome ero, io ho destinato al centunesimo gruppo, un bellissimo gruppo, devo dire una meraviglia di gruppo, alle 3 di notte, suona l'allarme perché sapevamo che c'era un'esercitazione e io essendo l'ultimo arrivato col carro della spesa, come dicevano, dovevo decollare per primo. Io non so come ho fatto a decollare, forse mi sono svegliato tirando sul carrello, ma sta di fatto che qualche specialista deve avermi detto, avermi visto che ancora stavo dormendo quando sono andato all'aereo e anche dentro l'aereo, deve averlo detto al comandante di gruppo e il comandante di gruppo il giorno dopo mi chiama e mi dice guarda da adesso in poi sarai l'ultimo, perché decollavamo scaglionati di un quarto d'ora ciascuno, per cui l'ultimo pilota del gruppo decollava verso le 6, le 7 di mattina, da adesso in poi tu decollerai per ultimo perché non voglio venire al tuo funerale e questo lo devo ringraziare perché effettivamente ero un morto di sonno, adesso non più perché sono passati gli anni purtroppo. L'altra cosa che devo ricordare è gli allarmi, in palazzini allarme dormivamo in due nello stesso locale con la tuta, la pistola, armati e c'era Pablo che russava come Dio comanda proprio e io non dormivo, non riuscivo a dormire e allora sono andato dopo due volte perché mi veniva l'istinto di sparargli in bocca, dopo due volte sono andato al comandante di gruppo e ho detto guardate vi faccio tutti gli allarmi a Pasqua, a Natale, a Capodanno, quando volete, ma per favore non più con il Pablo perché ho istinti omicidi e mi hanno contentato, hanno capito, se non che arriviamo a Lieber, non a Lieber, a Willenshafen, cioè ad andare era il momento in cui si va a 1964, si va a fare il passaggio in Germania sul 104. Devo dire che il primo decollo del 104 sul 104 con l'istruttore ovviamente, ho detto ma io non ce la farò mai a seguire o a star dietro a questo missile praticamente con un motore che non finisce più e invece piano piano, piano piano, piano piano, l'essere umano è un essere molto flessibile che riesce a organizzarsi mentalmente, insomma alla fine si aveva tutto il tempo per guardare gli strumenti, per accorgersi di tutto e di ogni cosa durante il decollo. Però il primo il primo volo sul 104 penso che non sia stato traumatico solamente per me, ma per tutti quanti, soprattutto per coloro i quali venivano da un F84, il quale d'estate riusciva a decollare agli ultimi 100 metri di pista, insomma. E così succede che mentre sono a Willenshafen mi nasce la figlia con anticipo. E allora i tedeschi, brava gente, mi danno un T33 e andiamo in due, andiamo a Rimini. Naturalmente quando nasce un figlio, uno soprattutto non essendo presente perché lì per lì insomma si sente anche un po' in colpa a vedere questo esserino. Mentre sono lì tranquillo e beato al quinto, allora era quinto stormo, avevamo gli ultimi 104, quelli fotografici al 101. Mi chiama il comandante il reparto volo e mi dice, sai che c'è di nuovo? No. E dice, devi andare in accademia a comandare in corso. E io lì mi sono sentito veramente morire perché si stava benissimo al gruppo, si volava, non c'era limiti per chi aveva voglia di volare. E comunque bisognava dire signor sì. e il corso da comandare era il corso Eolo III. Il corso Eolo III che dopo due anni di comando che sono serviti tantissimo a me per riuscire a capire nei primi 5 minuti chi fosse colui che era davanti a me perché con 104 ragazzi, uno diverso dall'altro, cercando di conoscerli tutti per bene, è un esercizio che è notevole. E io praticamente a questo punto appartengo a due corsi. Appartengo al corso Pegaso II e appartengo al corso Eolo III, tant'è che oggi ho messo due anelli di corso qui. Bel corso, veramente noi abbiamo fatto nessuno sconto a nessuno durante il periodo di Lecce. Mentre ho finito, dopo i due anni, chiedo, vado a Rimini anzi, e il comandante del reparto volo mi diceva, vedi quella sedia lì è per te, quella scrivania, la scrivania è per me. Ma sono stato fuori dall'attività di volo per due anni. Adesso mi fate, mi date una scrivania. Eh sì, ma abbiamo bisogno di uno per la sicurezza a volo. E allora ho ricattato tutti i santi possibili che avevo in paradiso, pregandoli, e sono stato destinato al ventesimo gruppo. Cioè volevo andare e continuare a volare in un posto in cui si poteva volare e non si centellinavano le ore di volo. Mentre ero a Rimini e comandavo la squadriglia, arriva un giovane pilota di complemento che si chiamava Gianni Tempioni. Gianni Tempioni era un bolognese allegro, spensierato, che sapeva volare bene, che amava gli scherzetti. Per esempio, lei provi a comprare una macchina nuova, parcheggiarla al circolo ufficiali e trovarsi con una chiazza di olio sotto il motore, messo naturalmente da Gianni Tempioni. Ecco, questo ha fatto impazzire Giovannino perché era lui il proprietario della macchina nuova e non sapeva, non riusciva a vedere da dove colasse questo olio che c'era sotto il motore. Io ho fatto il corso istruttori, la sciva, insomma, a Grottaglie, dove ho patito un freddo terribile, era gennaio, arrivo al ventesimo e mi ritrovo Gianni Tempioni, il quale mi fa che piacere ben arrivato, che piacere è volare insieme. E così un giorno c'è un decollo di un frequentatore e noi due, io dovevo ancora imparare a fare l'istruttore sul 104. Io dovevo fare la transizione a istruttore. In genere l'istruttore sta dietro nel velivolo biposto, mentre chiamiamolo il frequentatore, chiamiamolo allievo, sta davanti. Quindi tutto l'addestramento di uno che dovrà diventare istruttore è da dietro, cioè è nel posto posteriore. Però dovevo imparare a fare tutto quanto quello che fa un istruttore o che può fare un istruttore con un allievo che secondo lui ha le prime armi e non sa muoversi. E quindi noi facciamo da Cesa questo pilota anziano, quindi un pilota che aveva ore di volo e che non aveva bisogno di essere seguito. Comunque andiamo in zona, zona Trasimeno, facciamo delle virate sfogate, dei looping, dei tonno, l'avvicinamento allo stallo. E poi siamo a circa 10.000 piedi e dovevamo rientrare a 27.000 piedi a Grosseto. Eravamo un po' separati, mezzo miglio insomma, se non che dico ok Luciano saliamo a 27, a 2.70. E lui si ferma e livella a 1.70. E Gianni fa A, il Pollacchione ha sbagliato a leggere l'altimetro. Allora gli dico Luciano a che quota sei? In quella vedo lo sbuffo di lui che dà motore per salire a 2.70 e anch'io do motore. E da quel momento praticamente si sente un suono cupo e la mia sensazione, perché immediatamente ero in visione nera, è di una grossa imbardata a destra. E Gianni fa Lanciamoci, Marcello Lanciamoci, io ero già che non avevo dubbi che ci si dovesse lanciare. Se non che la forza di gravità o le forze di gravità indotte erano talmente tante che io non avevo, non vedevo, avevo la visione nera, che cercavo di muovere le mani per andare a prendere la maniglia di edizione e non ci riuscivo. Se non che a un certo momento abbasso la testa e in una porzione al centro della visione vedo che le mani sono vicine alla leva di esponuzione. Non mi ricordo di averla tirata. E da quel momento praticamente mi risveglio, che sono stato a 100 metri da terra. L'opzione era andare su un albero o andare dentro un fiumiciatolo, però non c'era tempo per governare, nel tempo per fare niente, cado sull'albero prendendo un sacco di botte, ma per fortuna essendo svenuto e ci ho messo parecchio, a febbraio faceva fresco, non avevo sganciato il pacco di sopravvivenza, il quale ha tranciato diversi rami, se no molto probabilmente le gambe si sarebbero rotte in questa caduta. Guardo, arrivo a terra, tolgo il paracadute e vedo una 500 su una strada di vicino, i quali su queste 500 mi prendono e mi portano dal medico condotto di Valfabbrica. e lì io sapevo che eravamo in due e gli chiedo a questi due, che poi erano degli stradini, gli chiede l'altro paracadute e gli dice no, ma noi ne abbiamo visto uno solo. io lì per lì non ricordavo chi fosse con me, la cosa chiara però che avevo, la mente umana è stranissima, è che era a scapolo e questo già mi ricordo. Naturalmente il momento che lui ha avuto essendo davanti, rispetto a me che ero più verso il centro di gravità mentre il velivo lo stava arrotolando e adesso spiegherò perché, perché si era staccata la tip, la tanica all'area sinistra, era andata contro il piano di coda e praticamente l'aereo è cominciato a arrotolare. fra l'altro, dopo quando c'è stata l'inchiesta, mi è stato detto che il cannone che buttava fuori il seggiolino a 16 g non mi aveva portato fuori dal velivolo, ma i razzi perché c'era il colpo e poi i razzi che tiravano, erano sfiammati dentro la cabina, quindi non so come sono uscito e il seggiolino, che era il c2 e non era ancora il martin becker, ha fatto tutto da solo, per fortuna devo dire. quindi quando l'aereo ha perso e è andato a rotoloni, io ho avuto un momento di pressione molto superiore, molto inferiore o molto inferiore, non so molto, non so quanto, ma certamente inferiore a quello che ha avuto Gianni, perché Gianni era più distanziato dal centro di gravità del velivolo, il quale rotolando naturalmente subiva la cosa, tant'è che appunto a me 16 g di botta da parte del seggiolino, da parte del cannone che faceva la botta e poi c'erano i razzi stabilizzatori, non è servito, non è bastato a tirarmi fuori dall'aereo, quindi noi stavamo subendo più di 16 g, i razzi sono sfiammati dentro la cabina, poi non so perché ero svenuto, non so chi mi ha tirato fuori, può essere che i razzi abbiano iniziato a sfiammare dentro la cabina e poi mi abbiano tirato fuori. Ecco, una cosa di cui mi devo rimproverare è che solamente dopo una decina d'anni ho pensato che dovevo la vita anche a chi aveva ripiegato il paracadute e allora sono andato a Grossetto, l'ho conosciuto e l'ho ringraziato perché, ripeto, la sequenza di lancio è stata perfetta, ma nella quale io non sono intervenuto. non ricordo di aver tirato la maniglia, ricordo solo di aver visto che le mani erano lì, poi non so chi l'ha tirata, forse qualche angelo custodia, non lo so. La cosa strana che ancora ho nelle orecchie è il rumore sentito mentre mi sono risvegliato dell'aria e del paracadute che scendeva. Poi il medico condotto mi visita, chiama l'ambulanza, mi portano all'ospedale di Perusa e lì c'erano ancora le suore, non c'erano le infermiere e una suorina mi dà subito un bicchiere di aranciata, una spremuta d'arancia e poi sapendo che mi piaceva molto mi hanno molto viziato con le spremute d'arancia. Anche lì mi portano in sala raggi e a quel punto mentre sono sulla barella per la sala raggi mi viene in mente che con me c'era Gianni Tempioni e in cuor mio ho pianto il piangibile o quello che era possibile piangere perché perdere una persona con la quale si è volato al gruppo a Rimini e poi si è volato a Grosseto, è stata una cosa veramente bruttissima. Vabbè, dopo dieci giorni mi liberano dall'ospedale e mi portano a Grosseto. Io diciamo che il primo volo dopo il lancio l'ho fatto praticamente un mese dopo il lancio, per fortuna mi hanno fatto volare. Ah, una cosa in particolare molto simpatico è stata che viene il medico di Stormo e mi dice sai, ho dei problemi con te, che problemi? E mi dice, ah mi sa che tu abbia il diabete. E il diabete era motivo di non più idoneità al volo. E io ci sono rimasto come un cane e poi ci ho pensato. E ho detto, ma scusa, io mi sono lanciato verso le dieci e mezza, undici, ma la colazione l'ho fatta la mattina, quindi chiaramente avevo dello zucchero nel sangue. Ah, non ci avevo pensato. Però la FIFA che mi aveva fatto provare era notevolissima, insomma. Uno dice, beh, col diabete non posso più volare. Io ho avuto conseguenze alla schiena perché, mannaggia, cose che mi ricollego a brutti. perché mi hanno fatto la radiografia, ma la radiografia era antero-posteriore e tutto andava bene. In realtà dovevano fare antero-posteriore e laterale. Quando brutti si è lanciato, io ho detto, fategli, perché ormai il danno mio non se ne sono accorti che ho due vertebre schiacciate, dorsali, no? Fategli una, non solo la radiografia antero-posteriore, ma anche laterale. E non aveva niente, perché lui non è caduto su un albero, insomma. Non ha preso le botte. O dire, io naturalmente avevo un occhio nero, avevo un versamento, per fortuna anche lì devo ringraziare la sanità, i medici dell'ospedale, perché mi hanno controllato gli occhi e avevo un versamento di sangue sulla retina. E lì mi hanno tenuto per dieci giorni fermo, in modo che si riassorbisse, perché se non si fosse riassorbito, molto probabilmente ci sarebbe stato qualche problema sulla retina. Ecco, lì scrupolo da parte di persone, scrupolo anche perché avevo un occhio nero, proprio pesto. Non so se fosse il destro o il sinistro, mi pare di ricordare il destro. L'altra cosa è che non ho perso l'orologio, cosa stranissima, perché ho perso il casco e c'avevo il sottogola. Lei è andato a cadere in località Sambuco, a Valfabbrica, che è una, come tutte le cittadine che sono ridenti dell'Umbria e il sindaco di Valfabbrica a un certo momento ha voluto intitolare una piazza a Gianni Tempioni. Io ho voluto fare quel monumento di cui ho portato la fotografia, perché mi sembrava troppo poco la cosa. C'è la fotografia, purtroppo nella fotografia i colori della coccarda sono un po' sviaditi, ma attualmente sono stati ripristinati e sono come dovrebbero essere. Era il TF 104, G. Aveva il numero, come noi usavamo chiamare di carrozzella, era il 20, perché 20 era il 2011 e io poi ogni 10 febbraio andavo a trovare sua madre e suo padre a Bologna, fin quando erano in vita e Gianni non si è accorto di morire, così come non me ne sarei accorto io se non avessi forse istintivamente tirato la maniglia del lancio, perché ripeto che io sono stato, ed è un periodo di circa 10 minuti per scendere da 17 mila piedi fino a terra col paracadute, col freddo del 10 febbraio, per cui la botta era, non la botta, era uno svenimento piuttosto consistente, insomma è stato. ho imparato che cosa significhi una frazione di secondo, perché è una frazione di secondo è stata. Grossetto, grossetto, mi sono preso tre fulmini per aria, l'ultimo è stato abbastanza in corto finale, preso un fulmine sul 104, si perdeva la radio, insomma c'era un temporalone che non finiva più e siccome c'era questo temporale, a noi avevano tenuto fino al limite del carburante, non avevo il carburante per andare all'alternato, insomma da dietro si vedeva qualcosa, ma da davanti non si vedeva proprio nulla, io ero dietro naturalmente come istruttore, già come istruttore, se non che quel ragazzo che era con me alle prime armi, si è preso una fifa terribile perché perdere tutto, non vedere niente davanti, mentre io vedevo qualche cosa e siamo riusciti all'alterare nonostante la perdita di certe, per esempio il ruotino non lo si poteva più governare, c'erano parecchie grane con un fulmine che colpiva e questo ragazzo qua ha detto no, no, il 104 non fa per me, non sapendo che mentre lui davanti non vedeva proprio nulla e fra l'altro l'interbordo non c'era e per cui non gli potevo dire nulla, mentre io dietro vedevo benissimo e va bene, è andata così. Poi a un certo momento mi viene proposto, più che proposto mi viene detto che dovevo andare in Canada perché il corso Euro si sarebbe brevettato in Canada e dice tu li conosci, sai, era la prima volta dopo un'interruzione di diversi anni che un corso andava a prendere il brevetto fuori, la scusa per dirmi che dovevo salvare la patria un'altra volta è stata che tu li conosci, ci sei stato due anni e quindi sai bene, va bene, poi il Canada naturalmente attirava l'idea insomma del Canada. Siamo arrivati lì con mia moglie e mia figlia, una giornata splendida, beh usciamo a fare quattro passi, usciamo dall'albergo e fatti non più di 20 metri, torniamo indietro e eravamo a meno 25, però noi pensavamo che fosse caldo. Siamo arrivati durante la permanenza di un anno a meno 40 e vi assicuro che è un'altra dimensione, il meno 25, meno 40 è un'altra dimensione, vabbè dopo rientro al ventesimo, dopo un anno, 11 mesi, poi faccio la scuola di guerra, comando il ventesimo e faccio la scuola di guerra e poi vado assegnato all'ufficio di pianificazione finanziaria dello Stato Maggiore Aeronautica. Mentre ero lì che mi divertivo perché già nel 1971-72 i soldi erano sempre insufficienti, ancora adesso sono insufficienti, però l'aeronautica continua a far volare brillantemente i velivoli, a fare quello che deve fare, anche e nonostante l'insufficienza di mezzi finanziari. Senonché il generale Cavalera era segretario generale della difesa, mi chiama e mi dice vorrei che tu mi facessi da aiutante di volo, ma non intendo aiutante di volo come portaborse, intendo darti l'opportunità di capire la parte amministrativa delle forze armate, cioè delle direzioni generali, quelli che effettivamente fanno la spesa, perché tu sai tutto o potresti sapere tutto sulle cose operative, ma non sai nulla di amministrazione. Difatti è stata una bellissima esperienza e lì mi ha fatto capire una cosa, era una persona, il generale Cavalera era una persona di una estrema cortesia, di un estremo stile, di una nobiltà, non era nato nobile, ma era di una nobiltà all'animo, mi ha fatto capire la differenza tra piloti militari e militari piloti, perché lui diceva, vedi pilota militare è uno status, militare pilota è uno che ha avuto la vocazione del volo tardiva e quindi è un militare, poi è una specializzazione la sua, ma noi abbiamo uno stato giuridico ben preciso che si contraddistingue come piloti militari. Poi naturalmente il modo di fare, per esempio c'erano degli onorevoli che chiedevano di parlargli e lui non li ha mai ricevuti senza aver prima avvertito e avere il placet da parte del ministro della difesa, cosa che diciamo forse oggi come oggi è abbastanza impensabile. Poi però succede che mi chiama un bel giorno e dice guarda tu sei in promozione a colonnello, ero tenente colonnello, sei in promozione a colonnello e io non mi posso permettere di avere un colonnello come aiutante di volo perché il ministro della difesa Forlani ha aiutante un tenente colonnello. Ecco questo racchiude diciamo lo stile di questa persona che mi ha insegnato tantissimo. Bene, che diavolo ho fatto dopo? Ah sì, vado allo Stato Maggiore e prendo un ufficio dei trattamenti economici sostituendo un commissario, un ufficio che era sempre stato di commissario, creando un po' di maretta, un po' di scandalo, ma comunque e lì me la sono cavata anche abbastanza bene. Per farla breve, dopo nel 1978 mi viene detto di andare a comandare il 51esimo stormo. Io onestamente pensavo o speravo di andare a comandare il quinto stormo a Rimini perché era insomma il primo amore non lo si dimentica. Poi sì e no di strana sapevo la frequenza del TACAN che era canale 80, ma mi sono trovato benissimo anche a Istrana. La fortuna è stata sempre la mia, la fortuna è stata sempre quella di avere dei collaboratori meravigliosi pur non avendoli scelti. E lì a Istrana c'è stato il problema dei controllori del traffico aereo. una sera o una notte mi hanno mandato perché pretendevano a quel punto per boicottare, per fare tutto, pretendevano di portare i velivoli a terra trattandoli come se fossero dei 19. Mi hanno mandato otto velivoli all'alternato a Rimini di notte. E allora lì c'è stata molta, molta maretta, molta, che poi è sfociata nella, praticamente nella civilizzazione dei controllori del traffico aereo. finito il quinto, il cinquantunesimo stormo, dove mi sono divertito parecchio e intendiamoci uno stormo meraviglioso. Vengo assegnato allo stato maggiore difesa, primo reparto, trattamenti economici del personale e anche avanzamento del personale. Devo dire di avere avuto dei capi, il capo del primo reparto era un generale dell'esercito, molto bravi, molto amichevoli, se vogliamo. Io allora ero solamente colonnello. Poi vengo chiamato dal generale Bartolucci un giorno, il quale mi dice, sai, e anche qui dovevo salvare la patria, abbiamo bisogno di te a perdas de fogo, perché c'è una situazione che non mi piace niente. A perdas de fogo. A il poligono sperimentale interforze. Dice, ma proprio me? Dice, sì, perché, vabbè, devi andare lì. Nel frattempo, però la figlia era cresciuta, nel frattempo la figlia faceva con l'università. Insomma, mia moglie ha dovuto fare su e giù con la Sardegna, e io lì in mezzo all'Ogliastra, dove ho trovato piacevolissimo discutere con i pastori. Discutere con i pastori perché sembra che un pastore sia ignorante. Si parlava di politica. Si parlava, poi naturalmente ti regalavano il caglio, naturalmente ti regalavano la ricotta appena fatta, che è una cosa squisita. A perdas de fogo ho avuto l'unica piantata di motore su un elicottero. Anche lì la fortuna è stata che da Cagliari dovevamo andare a perdas de fogo e appena ho dato motore per salire, perché c'era la pianura e poi tutte le colline, e ha piantato. Ha piantato, autorotazione, e siamo finiti, perché c'era anche l'altro pilota, e siamo finiti praticamente fra due filari di una vigna. Se ci avesse piantato dieci minuti dopo eravamo in mezzo alle colline, in mezzo al mirto e Dio se lo sa dove avremmo potuto mettere l'elicottero. Dopo perdas de fogo vengo assegnato come capo di stato maggiore al comando generale delle scuole e lì mi sono molto divertito perché ho fatto con metodo e con continuità, ho avuto la possibilità di divertirmi con gli alianti. L'avevo già provato l'aliante a Rieti quando il corso Eolo andava a fare attività di aliante, però fare attività, non dico quotidiana, ma insomma abbastanza concreta con l'aliante. E questo mi è servito anche perché ero curioso di vedere il comportamento in volo delle donne. Questo perché? Perché quando ero stato maggiore difesa il mio ufficio aveva fatto la prima bozza di un decreto o di un disegno, non un decreto, di un disegno di legge per l'arruolamento delle donne, cosa che è stata messa in un cassetto, allora c'era la democrazia cristiana che imperava, però io ero curioso di sapere come si sarebbero comportate le donne in volo e fortunatamente noi premiavamo con un volo, anzi col brevetto sull'aliante, un gruppetto di liceali che avevano dato i migliori risultati in un corso di aeronautica. Devo dire che inizialmente le ragazze erano tese come una corda di violino per dimostrare che loro non erano da meno dei maschietti. Mentre il maschietto se era un metro a destra o un metro a sinistra se ne fregava o quasi, loro no, l'allineamento doveva essere quello e per poterle smollare un po', farle dire, convincere che tutto sommato un metro a destra o un metro a sinistra non era la fine del mondo, ce ne voleva del bello e del buono. Erano molto orgogliose, molto impegnate, però per me non c'è stata nessuna differenza tra i ragazzi e le ragazze come capacità di apprendere l'arte, chiamiamola l'arte del volo. Poi vado trasferito anche lì per salvare la patria a Bagnoli, al comando delle forze aeree del sud Europa come vice comandante. Devo dire che lavorare con gli americani è stata una piacevolissima sorpresa, molto bella. Gli americani se vuoi lavorare ti fanno lavorare, se non vuoi lavorare ti mettono tranquillo nella tua sedia, ti lasciano tranquillo nella tua sedia. Ho trovato anche il modo durante un'esercitazione di litigare con un colonnello dei Marines, perché ai Marines guai toccargli gli aerei. Però l'esercitazione prevedeva che fossero lì sul bagnasciuga e avessero degli aerei fermi e allora la decisione è stata di requisirli e di utilizzarli in modo aeronautico. apriti cielo. Sono addirittura andati poi ad Assing South, il quale era un ammiraglio, mi ha dato ragione. Mi ha detto bravo, hai fatto proprio bene. Ce l'aveva anche un po' con i Marines. Bene, siamo arrivati al comando della scuola di guerra aerea e lì l'unica cosa che ho fatto di buono è stato scrivere un libro sul management che mi è stato pubblicato dal sole 24 ore. E poi ho l'impressione che sia stato parecchio copiato da qualche d'uno senza dire la fonte, ma pazienza. Nel 1992 vado a Bruxelles. A Bruxelles a costituire la cellula di pianificazione militare dell'Unione Europeo-Occidentale con 40 ufficiali provenienti da 12 paesi diversi. Due cose devo dire. La prima è che un capitano di vascello tedesco, sapendo che lì era comandato da un italiano. Inizialmente mi guardava come se fossi un pizzaiolo o quasi. Poi invece ha capito che tutto sommato anche gli italiani riescono a fare qualcosa di buono. Lì si doveva costruire o iniziare a costruire un esercito europeo, se non che la Nato non era contenta. Però delle cose buone sono state fatte. Per esempio il mio vice che era, tra l'altro lo benedico dalla mattina alla sera, ma era un francese, un generale di divisione francese, io allora ero già di squadra, il quale mi dice, io vorrei parlare con te solamente in inglese perché devo migliorare il mio inglese. E quindi io praticamente, pur avendo un vice che parlava francese, che avrei potuto imparare anche bene, sono stato costretto a parlare inglese. Questo generale Roux è andato a Mostar, Mostar allora erano in conflitto cattolici e musulmani ed è riuscito a metterli insieme a parlare. Io sono stato a Mostar e vi assicuro che non c'era un mattone che non avesse un colpo d'arma da fuoco. Una cosa impressionante. Però siamo riusciti a mettere un po' di controllo nella situazione. Abbiamo fatto, siamo riusciti a fare l'embarco sul Danubio dove passavano le armi, abbiamo bloccato il canale di Otranto, cioè qualcosa di buono la cellula, chiamiamola cellula perché si chiamava Planning Cell, era riuscita a fare. Se non che questo non andava bene agli inglesi e quando io dopo il mio periodo sono tornato in Italia praticamente è andata pian piano a risolversi e non c'è un esercito europeo, non c'è neppure quello che tentavamo di mettere in atto uno stormo o una capacità di almeno di trasporto aereo comune a tutti i paesi dell'Unione Europea. Non è successo. Vado, torno in Italia, mi destinano, tutti quanti pensavano che sarei andato a comandare la prima regione aerea a Milano, invece mi destinano alla terza regione aerea a Bari. Io il Sud lo conoscevo poco, Lecce, Amendola, ma soprattutto conoscevo poco le persone. Anche lì ho trovato delle persone splendide, delle persone che avevano un unico handicap, che quando si trovavano di fronte a un problema, a un ostacolo, non venivano a dirtelo in modo che tu potessi risolverglielo, ma si vergognavano e allora cercavano di andare avanti in mezzo a un sacco di difficoltà per loro. Poi la Puglia è una regione splendida e lì avevo il comando da Pescara fino a Lampedusa e mi sono goduto lo sbarco degli albanesi, dove poi li abbiamo ospitati in roulotte alla testata pista della vecchia pista di Bari, quella della guerra. E lì qualcosa anche di buono siamo riusciti a fare, ma purtroppo gli anni passano, la terra continua a girare su se stessa, i giorni passano, gli anni passano, ed è arrivato l'anno del 1997, il mio sessantunesimo anno di età, dove ho dovuto lasciare non solo l'aeronautica, ma la divisa e anche la terza regione aerea, dove, ripeto, ho trovato delle persone splendide, favolosamente splendide, che mi hanno dato molta soddisfazione. Io avrei quasi finito, però vorrei ricordare due cose, quello che ho insegnato ai ragazzi dell'Eolo è stato le tre C, cioè combattente o reduce, collaboratore o portaborse e l'ultima è, me la reggo ancora, cittadino o suddito. E un'altra cosa, tutta questa 41 anni di vita militare, forse è qualcosa di più, ma non li ho contati, perché se no mi sentirei ancora troppo vecchio, è un'altra cosa che devo dire, e lo dico in tutta certezza, chi dice che comandare è meglio che puntini puntini, secondo me o non ha mai comandato o non ha mai puntini puntini. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.